Norme chiare, indennità di malattia, indennizi per le attività costrette a chiudere per tutelare la salute di tutti. È quanto chiede l'Associazione Ristoratori Toscana al governo. A lanciare l'allarme al presidente Pasquale Naccari, se viene rilevato un contagio in un locale, ha sottolineato finiamo tutti in quarantena, lo staff e proprietari familiari dell'attività viene chiusa in via precauzionale. Ma per quanto, e dovremo richiamare tutti i clienti che sono stati a cena o a pranzo nelle ultime due settimane, regna la più totale incertezza. Ci saranno conseguenze economiche per i dipendenti, per i proprietari dell'attività e per le loro famiglie. Il governo però, prosegue Naccari, non ha previsto nessun risargimento e per i titolari non è prevista la malattia. Cosa succederà se ci si ritroverà a stare 14 giorni isolati a casa? Chi lavorerà? Per non parlare dei danni di immagine per i locali. Il nostro indotto a livello nazionale supera i 100 miliardi di euro. Senza interventi rischiamo di perdere tra lavoratori diretti e indiretti 2 milioni di posti di lavoro. Il 50% dei ristoratori, si legge nella nota, vive con gli incassi della giornata. Ci sono attività, soprattutto nelle città d'arte, che non fatturano da marzo. Alcune non hanno ancora riaperto e lo faranno a settembre con questa spada di Damocle, ovvero la possibile chiusura dell'attività per contagi da Covid. Intanto la clessidra dei costi continua a girare. Ci sono da pagare affitto, tasse, luce, costi fissi. Chi pensa a queste famiglie? Quanto potranno andare avanti in questo modo? Per questo, conclude il presidente di Ristoratori Toscana, chiediamo al governo norme chiare, indennità di malattia per chi non ce l'ha e indennizi per tutte quelle attività che saranno costrette a chiudere per tutelare la salute di tutti. Chiediamo anche chiarezza rispetto alle procedure da seguire. Se non avremo risposte, saremo costretti a scendere di nuovo in piazza.